Bentornati a Trame Raccontate Male. Beh, devo dire che Donizetti l'abbiamo un po' trascurato nel corso dei nostri viaggi. Oggi quindi affrontiamo Lucia di Lammermoor. Lucia di Lammermoor è la storia di una povera donna malata di mente che per salvare il fratello è costretta a sposarsi un povero Cristo e alla fine muoiono tutti. Anche in quest'opera l'ormai famosa regola di George Bernard Chauvin rispettata in pieno. Trama! Scozia, mille e qualcosa, due famiglie nemiche. Da una parte abbiamo gli Ashton, di cui fanno parte Enrico e la sorella Lucia. E dall'altra parte Ravenswood, di cui fa parte Edgardo, che, riamato, ama Lucia. Il modo in cui si sono conosciuti innamorati è una delle cose più assurde della storia dell'opera. Lucia e la sua BFF, Alisa, erano in giro tranquillamente a fare shopping. All'improvviso un toro, che girava allo stato Brado in via Monte Napoleone, le vede e decide di caricarle con lo scopo di ucciderle. Così, senza uno straccio di ragione. E non erano neanche vestite di rosso. A un certo punto qualcuno colpisce il toro che stramazza il suolo. Ma cos'hai usato per fare one shot, one kill con un toro? Un bazooka? Un missile terra aria? Uno sguardo di Chuck Norris? Il cecchino capace di uccidere un toro in corsa è Edgardo Ravenswood, nemico giurato della famiglia di Lucia. Salva San Dier, Lucia si innamora di lui seduta stante. Mio eroe! Ed a quel giorno lo incontra ogni alba. Ricordate che nelle opere si dorme sempre pochissimo. Ora, la cosa bella è che questa storia, nella famiglia Ashton, la sanno benissimo. Ma nessuno impedisce a Lucia di recarsi nottetempo a flertare con un nemico. Enrico, fratello di Lucia, si lamenta con tale Normanno, detto il pettegolo, perché quella sconsiderata di Lucia non vuole sposarsi con chi vuole lui. Oh, sta storia che le donne devono sposare chi vogliono loro deve finire. Ennesimo incontro notturno. Edgardo è in ritardo perché non ha trovato una fasta charge sull'autostrada. E Lucia racconta ad Alisa che anni prima, proprio nel luogo in cui si trovano, un Ravenswood, ovvero la famiglia nemica a cui appartiene il suo innamorato Edgardo, aveva ucciso per gelosia l'amata. Meno male che l'amava. Fin qui nulla di nuovo un tristissimo quanto ai miei frequente caso di femminicidio. Il punto è che Lucia si risce di aver visto il fantasma di questa donna uccisa tanti anni prima. E qui le opzioni sono solo due. O la storia vira verso il soprannaturale, oppure Lucia è un caso da manuale di schizofrenia. La pragmatica Alisa chiede se sia una buona idea fidanzarsi con un discendente del femminicida. Metti che poi sia geloso anche lui. E crede che tutta questa storia sia cosparsa di variegata sfiga. Ma Lucia non sente ragioni e aspetta impaziente il suo torero Matador. Olè. Arriva Edgardo tutto trafelato e dopo aver parcheggiato in doppia fila, dice a Lucia che sta per partire per questioni di stato. Ma per dimostrare che la ama, le lascia sempre condivisa la posizione su WhatsApp. Non basta. Per suggelare la pace fra le due famiglie, Edgardo intende chiedere la mano di Lucia di lei fratello Enrico. Che considerando che Enrico gli aveva ucciso il padre e preso tutti i suoi beni, mi sembra una proposta molto generosa. E qui abbiamo una splendida dimostrazione di quanto una donna abbia potere su un medio esemplare maschio di Homo sapiens. Edgardo infatti aveva giurato di uccidere Enrico per vendicare la morte di suo padre. Ma non appena conosce Lucia, gli passa tutto. Ti vidi e l'ira tacque. Ed è disposto a seppellire la scia di guerra. Aiutatemi, cos'è che ti erava più di un caro di buoi? I due quindi si scambiano gli anelli come pegno di fedeltà reciproca e si giurano amore. Eterno ovviamente. E qui passi Edgardo che sapeva il motivo per cui si erano incontrati. E infatti aveva chiesto lui l'incontro con Lucia. La quale invece era all'oscuro del subject del meeting. E quindi è un mistero da dove Lucia trifoli l'anello. Ma pazienza. Lucia è convintissima di questo giuramento e se ne esce con un poco apotropaico porrà fine al nostro fuoco sol di morte il freddo gel. Eh, però stai gufando. La scena termina con la promessa di scriversi e di likearsi le stories a vicenda. Edgardo parte. Passa del tempo. Normanno, detto il pettegolo, ed Enrico intercettano le lettere che Edgardo scrive a Lucia così da farle credere che l'amato abbia di meglio da fare che scrivere a lei. Non solo, viene anche scritta una lettera falsa da cui risulta che Edgardo ha affondato i dispiaceri della lontananza tra le curve di un'altra donna. Entra Lucia che da libretto ha già chiari segni sul volto di alienazione mentale. La motivazione di questa apparentemente bislacca indicazione del librettista la capiamo nella scena che segue. Enrico e Normanno, detto il pettegolo, fanno vedere a Lucia la lettera falsa e lei, senza sottoporla neanche a una basica perizia calligrafica, la prende immantenente per buona, piange e si dispera. Piange, piange e si dispera. Il piano A di Enrico è riuscito a spargere calugne su Edgardo in modo che Lucia non ne sia più innamorata. Ora però in pelle è il più difficile piano B, ovvero convincerla a sposare tale Arturo, detto l'insulso. Per capire chi sia Arturo dobbiamo fare un piccolo inciso. La Scozia è in lotta e i nobili si schierano con l'una o con l'altra fazione. Enrico purtroppo ha puntato sul cavallo sbagliato. E a quei tempi una tale scelta non si pagava stando all'opposizione in Parlamento, ma con un viaggio di sola andata per il patibolo. E era un attimo. Arturo, detto l'insulso, sembra essere l'unico che può evitare a Enrico il meeting col boia e quindi Enrico decide di dargli in sposa a sua sorella Lucia. D'altronde nelle famiglie nobili la funzione delle figlie femmine era esattamente questa, rimediare ai casini fatti dai maschi. Lucia però abbraccerebbe più volentieri un cactus di Arturo, detto l'insulso. E non ne vuole sapere. Enrico, come potete immaginare, non gliela mena neanche un po'. E parte prima basandosi sull'amore fraterno. Se tradirmi tu potrai, la mia sorte è già compita. Tu mi involi, onore vita, tu la scura e appresti a me. Ma Lucia dice, spiace, spiace perché un po' spiace sempre. Fallito quindi l'approccio dialettico empatico, Enrico passa direttamente alle minacce. Nei tuoi sogni mi vedrai ombra irata e minacciosa. Quella scura e sanguinosa starà sempre innanzi a te. Ma Lucia fa bella mossa della sua pervicaccia e non cede. Enrico ha esaurito quindi le armi persuasive. Ora, se Lucia fosse stato un uomo, qualche ora nella stanza delle torture, avrebbe senz'altro ottenuto il consenso a qualunque cosa. Ma purtroppo una donna proprio non si può torturarla. Bisogna quindi cambiare strategia. E l'unico che sembra avere un certo ascendente su Lucia è il suo precettore, Raimondo, che pur volendole bene riesce a convincerla a cedere alla richiesta del fratello di sposare l'insulso Arturo. Raimondo infatti le dice, E nelle opere, quando si tira in ballo il fatalismo, unito alla coercizione spirituale e religiosa, è raro che se ne esca con l'imene integro. Lucia cede e in 448, senza neanche consultare un wedding planner, vengono organizzate le nozze. Arriva Arturo, detto l'insulso, Enrico paventa uno scarso slancio emotivo di Lucia nei suoi confronti. Sai com'è, è un matrimonio combinato, adesso anche pretendere che faccia scomposti i salti di gioia mi sembra un po' troppo. Enrico quindi mette le mani avanti e giustifica l'eventuale fraddezza di Lucia con il dolore per la perdita della di lei madre, effettivamente da poco trapassata. Inizia la cerimonia. Edgardo irrompe nella sala, ma è ancora una volta in ritardo perché ha trovato traffico e gli sposi hanno già firmato il contratto nuziale. Lucia lo vede e sviene. Enrico, invece che ordinare alle sue guardie di arrestare Edgardo, si fa prendere tutto all'improvviso da scupoli esistenziali, verso la sorella di cui fino a 5 minuti prima importava più niente che poco. È il mio sangue, io l'ho tradita, è la statra morte e vita. Non esageriamo, dai, è solo svenuta. Edgardo reclama Lucia in virtù del loro giuramento. Un po' tutti gli ridono in faccia e gli sventrano davanti il contratto nuziale firmato da lei. Edgardo le lancia con disprezzo il suo anello e tutti gli vogliono far la pelle. Edgardo allora si arrende e offre la sua vita in cambio di niente. Lucia, peggio di una narcolettica, si viene ancora. Cambio scena. Edgardo è immotivatamente vivo ed Enrico lo sfida a duello. Enrico, a cui tutto il pentimento della scena precedente evidentemente è sfumato, dice a Edgardo sbeffeggiandolo Fu condotta al sacro rito, quindi al talamo Lucia. Giusto per ricordare a Edgardo, in caso mai se ne fosse dimenticato, che mentre loro sono lì a sfidarsi come due teppistelli, Arturo, detto l'insulso, si sta spuppazzando Lucia. I due, come nel peggiore dei film western, si sfideranno all'alba in un duello all'ultimo sangue. Nel frattempo la festa di matrimonio non sta andando esattamente come preventivato. Mentre tutti si abbuffano infatti al tavolo dei frittini, i due novelli sposi si ritirano nelle stanze per consumare ben altro. Dalle stanze però esce solo Lucia, insanguinata. Qualcuno pensa che, essendo una prima notte di nozze, in fondo non c'è molto da stupirsi. Sì, ok, un po' più di sangue dal solito, ma ci può stare. Il coltello però che lei ha in mano fa capire agli invitati che lei non l'ha usato per tagliare la torta. Lucia infatti ha ucciso Arturo, detto l'insulso, e ha totalmente sbroccato. Vaneggia, vede Edgardo dove non c'è, fa una meravigliosa cadenza col flauto, delira e poi muore. Ma come muore? Di cosa muore? Muore. Raimondo, incapace di sana autocritica per aver convinto lui, Lucia, a cedere alle nozze combinate, invece che prendersela con se stesso o con Enrico, se la prende con Normanno, detto il pettegolo, e lo accusa di essere lui, responsabile di tutto questo macello. Edgardo intanto viene a sapere della morte di Lucia e senza aspettare il programmato duello con Enrico, in preda alla disperazione, piange, piange e si disperga, assai. Prende la veloce e si pianta un pugnale nel corpo. Alla fine quindi sono morti tutti. Lucia, Edgardo, Arturo detto l'insulso e il toro di Monte Napoleone. La storia però non ci dice cosa sia successo a Enrico. Considerando che era già caduto politicamente in disgrazia e che sua sorella ha ucciso l'unico che poteva salvargli la vita, è auspicabile almeno che lo abbiano decapitato. Vi ricordo che i like, l'iscrizione al canale e le condivisioni del video sono gratis. Non siate timidi. Ci vediamo alla prossima trama raccontata male. Grazie.